Allora, siccome hanno già detto tutti quanti tutti, io non dico più niente. Semplicemente mostrerò una slide più qualche disegno, perché non presenterò tutte le slide che avevo preparato, però le metteremo sul sito web del GAR. Essenzialmente, noi GAR si è sempre mosso fin dall'inizio nell'ottica europea. GAR ha partecipato fin dall'inizio ai primi progetti, da quando è stato citato Cosain, Osi, queste parole qua. Già eravamo nel secondo programma quadro della Commissione Europea. Già lì abbiamo, infatti voglio dire, tutta quella roba tipo Eureka, programmi quadro della Commissione Europea, quella che Carlini e Ruberti spingevano perché noi ci partecipassimo e ci presentassimo in modo unitario e non come cani sciolti, perché poi era pure il vizio di qualche università, o soprattutto del CNR, quella del CNR è quello che fa, rappresenta tutta la comunità di ricerca italiana, che forse era pure vero, però c'erano anche degli altri enti che c'erano delle esigenze specifiche e delle università che, comunque voglio dire, del merito di Ruberti e di Carlini si è già detto e non sarò proprio io a parlare, a parte che va la mia ammirazione per loro, magari ce l'avessimo ancora adesso persone come loro. Comunque voglio dire, la comunità che afferisce al GARSA è sempre mossa in un'ottica europea ad adeguarsi a quello che succedeva in Europa, sia in termini di tecnologie che di attività di ricerca scientifica e soprattutto di quelle che adesso da poco si chiamano e-infrastructure, ma che uno già da prima faceva fare. Allora, essenzialmente, diciamo, Horizon 2020, come tutti sapete, invece di chiamarsi ottavo programma quadro, si chiama Horizon 2020, non sa perché l'hanno chiamato così, hanno provato pure altri nomi che non mi ricordo, poi ha vinto Horizon 2020. E essenzialmente per quanto ci riguarda, essenzialmente per quanto riguarda il networking per la ricerca, c'è la bandala ultralarga a basso costo, quindi noi dovremmo rispondere a questo tipo di cose. L'adeguamento costante dell'offerta di servizi alla comunità scientifica e accademica, una tempestiva risposta alle esigenze della comunità di riferimento, che è sempre questa di prima, ma anche tempestiva risposta a nuovi utilizzatori e nuovi requisiti. far fronte alle nuove tecnologie e modelli, mobile e cloud, cloud che è un superamento delle grid, diciamo che già l'abbiamo visto, ma soprattutto il mobile, cioè la mobilità è uno dei concetti fondamentali, e la mobilità è soprattutto il senza fili. E quindi appunto c'è la crescente importanza del mobile rispetto al fisso. La mobilità dei ricercatori, degli studenti, del cittadino in generale, deve essere così. Quindi questo qua significa per esempio il mobile che, diciamo, presto un palmare di quelli che dovrebbero adesso dovrebbero arrivare almeno a 50 megabit al secondo. E questo sicuramente entro il 2020 avverrà. Storage ad alta capacità e a basso costo. I dati, i dati sono la cosa più importante di quello che succederà nei prossimi anni. I dati vanno messi, distribuiti e acceduti, ed acceduti nella forma più semplice possibile per quanto riguarda l'utilizzatore. Diventeranno vecchi gli algoritmi di accesso all'informazione di Wikipedia o di Google, voglio dire. Sono delle cose già ormai superate nella mente di quelli che stanno lavorando al futuro. Uno che vuole accedere all'oggetto, come l'ho inventato, l'oggetto, la figurina, l'icona da Coso, come si chiama? Steve Jobs. Allo stesso modo è la informazione quella di dire. Io voglio quell'informazione, la trovo e ci accedo. Se è mia personale o quella di qualcun altro, o è di tutti, questo qui dipende dai sistemi di protezione, di sicurezza e di identità che ci accedo. Già su questo voglio dire adesso, non avendo tempo non posso parlare, ma la storia dell'identità e l'identity management è una delle cose fondamentali. Devo dire che questa cosa dell'identity management nella comunità a gare è venuta più dalle università. Prima dalle università con quel programma ICT for the University, non mi ricordo se era da quello. Insomma, comunque sono state le università a riconoscere un pochino questa cosa. E poi dopo chiaramente anche gli enti di ricerca hanno capito l'importanza di questo. È stato capito dalla comunità dei ricercatori in medicina. Cioè se io devo accedere a un'informazione riservata, la cosa più importante è sapere chi sono io e se ho i diritti di accesso e per fare che cosa. Questa qui è una cosa che si sta estendendo e espandendo e su quello ci si sta investendo molto. Green ICT è una dei must, non voglio rubare la parola a Marco Sommani, presidente della commissione, che ha giudicato gli elaborati dei premi che consegneremo oggi, ma un vincitore è stato proprio su questo argomento qua. L'informazione è la divulgazione scientifica e tecnologica nel senso, no, di pubblicità. L'informazione significa che l'informazione deve essere acceduta da tutti quanti quelli che ci possono lavorare. E quindi è la condivisione dei dati e delle informazioni a livello internazionale. Queste qui sono le cose che sono sottoposte al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo dovrà, e gli saranno anche delle proposte su quanti soldi vanno date per tutte queste cose. Questo è soltanto un aspetto, diciamo, del programma Horizon 2020. Quindi, allora, essenzialmente sommarizzando, e infrastrutture, questo complesso di servizi e strumenti informatici, sono alla base del concetto di spazio europeo da ricerca. Cioè, non possiamo più pensare di lavorare a livello del gruppetto del Dipartimento, dell'Università, o di cose, ma dobbiamo vederci a livello europeo. Questo già avviene, voglio dire, per molte cose, ma come il dottor Ali aveva illustrato prima tutta la roadmap di Estri, questo deve riguardare, riguarderà un sacco di discipline, voglio dire. Poi, quando si dice ricerca, non si parla soltanto della ricerca del DNFN, del CNR, o dell'EA, o di cose specifiche, ma si parla anche di altri campi, come quello lì, appunto, nel campo della medicina, o addirittura quello lì dei beni culturali, dagli archivi, alle biblioteche, ai musei, agli beni arcologici. E, però, diciamo, qual è il compito del GAR? Il compito del GAR non è che di fare la scienza, ma quello lì di dare supporto alla ricerca scientifica, alla ricerca accademica, e questo, naturalmente, la rete di trasmissione dei dati, è ovvio che è uno strumento indispensabile per poter avere queste connessioni a livello internazionale e facilitare la cooperazione internazionale. E' stato già ricordato che una delle cose importanti, il professor Modica l'ha detto chiaramente, e tuttora è vero, un professor iniziale mica lo sa che sta adoperando la rete GAR. E questo concetto è sempre stato tale, fin dall'inizio, come impostazione della rete, che dovesse essere trasparente, diciamo invisibile, che appunto la si nota solo quando non funziona, ma la si nota poco perché funziona sempre. Questo è la, come dice Liello sempre. E quindi voglio dire il... Però, non è che la rete funziona da sola. Se non ci fosse un complesso di persone e di angeli custode che ci stanno dietro, come quelli del Network Operations Center del GAR, quelli del CERT, del GAR, che sono quelli lì che si occupano delle sicurezze della rete, e il NOC si occupa del funzionamento della rete, che uno non li vede questi qua, perché lavorano poi insieme con tutti quanti i tecnici delle sedi universitarie, delle sedi allenti di ricerca, sia a livello nazionale che internazionale. Queste persone lavorano costantemente, giorno dopo giorno, facendo in modo che proprio la rete possa essere invisibile. Ma la rete c'è e c'è e ci sono anche delle persone che ci stanno dietro. Ora, diciamo, chiaramente come abbiamo sempre detto, deve evolvere la rete e è anche strategico che l'infrastruttura di comunicazione sia sempre potenziata. Più è grossa la rete, questo è l'economia di scala, lo sappiamo tutti, e meno costa. Infatti è così, ed è successo, potrei far vedere dei grafici se avessi tempo, che dimostrano esattamente questo. Comunque, grafici che poi dopo stanno sempre sotto costante controllo, prima del Comitato Tecnico Scientifico del GAR e poi del Consiglio d'Amministrazione, che chiaramente il Consiglio d'Amministrazione debba dare ai soldi, a quanto soldi si spendono. Però è dimostrabile facilmente che la banda passante si alza, aumenta, l'accesso delle sedi universitari e degli enti di ricerca aumenta e i costi si abbassano, non è che rimangono gli stessi. Quindi, diciamo, questo qui si va verso... Quello che è stato anche promesso, voglio dire, al Ministero della Salute, che aveva pochi soldi da mettere a disposizione e poi con quei pochi soldi da mettere a disposizione si poteva dare a questi istituti di ricerca scientifica, gli IRCS, poca banda passante, ma quello che poi sapevamo già e che succedeva è che poi a parità di spesa i loro accessi sono aumentati, adesso la metà di questi accedono in fibra ottica. L'idea è proprio quello lì, che tutte le sedi accedano direttamente in fibra ottica in modo da avere capacità illimitata. Chiaramente, diciamo, la missione delle reti della ricerca, non soltanto quella italiana Garma, tutte quante del mondo, è proprio quello lì di predisporre dei servizi più avanzati di cui poi possono beneficiare i cittadini attraverso i service provider commerciali che naturalmente rendono operativi soltanto quei servizi con cui ci fanno i soldi e degli altri che invece servono alla comunità della ricerca, magari non li rendono operativi. Comunque, vado velocissimo perché altrimenti andiamo... Una delle cose fondamentali che proviamo a fare utilizzando questi bandi, come si chiamano, por infrastrutturali per le quattro regioni del Mezzogiorno, è una sfida molto forte quella di fare nelle regioni del Mezzogiorno, di costruire una rete che è più avanzata di quella che è prevista per il centro nord dell'Italia e molto più avanzata anche di quella che c'è a livello europeo. Io spero che questo progetto, la RICS in sud, venga finanziato sui fondi por infrastrutturali perché sarebbe di... con pochi soldi si vorrebbe fare qualche cosa di estremamente rilevante a livello internazionale. Ho già citato questo IDEM, questi denti di management, e non ho citato l'EDU-ROM. EDU-ROM è che nel mondo appunto della ricerca e dell'education uno va in giro con delle credenziali e dovunque si trova è collegabile ai sistemi di calcolo, all'internet, alle reti. Questo qui sta andando avanti, l'Italia, e quando dico l'Italia sto parlando di tutte le componenti accademiche di ricerca, sono molto attive in questo a livello europeo. Non sto a ringraziare le singole persone che lavorano su queste cose perché dovrei ringraziare un sacco di gente del GAR e quindi non lo farò. Peggio per voi. Naturalmente poi questo qui, quello che potete leggere è anche ovviamente questa cosa del training fatto con modalità e-learning, è una cosa importantissima che abbiamo fatto, è che mutuiamo anche con i soci del consorzio GAR, con l'INFN, con il CNR, con l'Enea, con le università, con tutti quelli che facciamo, attraverso progetti specifici oppure progetti anche finanziati sui piani operativi regionali, come per esempio con l'Abruzzo, di cui collaboriamo con l'INFN, il laboratorio del Gran Sasso, molto celebre per via dei neutrini velocissimi, ma insomma è il più grosso laboratorio sottotterraneo al mondo e dove c'è parecchie attività con cui si collaborano, ma come con il Gran Sasso si collabora altrettanto con altri enti. L'attenzione all'esigenza del sincronizzatore è una cosa fondamentale, voglio dire, quello che ha fatto sempre il GAR, ma fin dall'inizio, è stato quello di sentire che cosa ti serve, non dire all'utilizzatore te la do io la rete, no no, ti do la rete che ti serve a te, tu dimmi che cosa ti serve e vediamo di farlo. Chiaramente con l'esperienza maturata uno anticipa pure delle esigenze e quindi poi una cosa importante sono il supporto a proposte di nuovi progetti, come per esempio i progetti europei, qui adesso per esempio cito soltanto tre su qualche decina di progetti europei a cui appartiene il Gn3, sulle reti, di side roba di medicina, in particolare mi pare di cosa neurologica su Alzheimer, non so i dettagli, Indicate invece è una cosa di beni, l'abito di beni culturali, voglio dire queste qui, ma come questi ce ne stanno tanti, il Gn3, ma ce ne sono altri che sono soltanto Geant, che è una cosa di rete, ma ci sono anche degli altri progetti innovativi, a me piacerebbe che il CNR, per esempio, non so se ci fosse qui qualcuno in sala che viene dal Politecnico di Torino, per dire che è noto il Politecnico di Torino per fare delle grandi collaborazioni proprio in questo campo, con quello che una volta si chiama Axelt, ma con tutta, anche in altre parti d'Italia, in molte università si fa un gran parlare di Next Generation Network, ma nessuno combina niente, voglio dire, dal punto di vista delle tecnologie anche di base, voglio dire, un tipo di fibra drogata in qualche modo che permetta di, eccetera, eccetera, questo che una volta si faceva, adesso non si sa a chi fare riferimento, però io penso che, diciamo, proprio su questa cosa che, GAR non è un ente di ricerca, si fa ricerca tecnologica nel campo del networking, ma non è un ente di ricerca scientifica come può essere l'INFN, l'Enea o il CNR, e uno dal CNR si aspetta un pochino queste cose, ma di quelle serie però, non tanto per farle. Non è una critica al passato, ma è veramente un invito che avere la leadership anche in questo campo non sarebbe male. Vabbè, quindi allora, diciamo, la risposta a tutto quanto quello che ho detto prima è Garix, che è una cosa spaventosamente grossa, voglio dire, questa con l'architettura di domani e il fatto di poter, è predisposta per fare 8 terabit, per contenere 8 terabit sul Beccon, è una cosa spaventosa, voglio dire, ed è, per come è fatta, per come è costruita, per come è congiunata, è una cosa a bassissimo costo, potrebbe ospitare 100 milioni, 200 milioni di persone sopra, voglio dire. E vabbè, non mi dilungo su questo qua, questa è la rete Gargì di oggi, che ha un sacco di punti di presenza, come in tutta Italia, questi pallini che stanno scritti qua, questa qui è il Garix nella fase 1, ma che diventerà molto più grande successivamente. Ecco, una cosa fondamentale sono la cosa delle MAN, già dal progetto GARB, una parte del, era una struttura nazionale, ma c'è stata una parte del finanziamento che è stato destinato alla creazione di reti metropolitane o regionali, questo va dato atto al professor Nino Mazzeo dell'Università di Napoli Federico II, che non c'è oggi qua, ma è vale ne no, che è riuscito a gestire 28 sottoprogetti di reti metropolitane, qualcuno è andato bene, qualcuno è andato male. Quelli che sono andati meglio sono quelli lì per esempio dell'Università di Pisa, ma dove però a me mi risulta che non gli è bastato il finanziamento di questo progetto sotto Garbì, ma all'Università ci ha investito parecchio, io mi ricordo che il professor Pierazzini parlava di come faccio a rendere conto al rettore che quello mi chiede ogni giorno, ma perché ti devo dare 3 miliardi di lire? Il rettore in questione era il professor Modica in particolare, che gli li dava pure appunto, però glielo chiedeva sempre, ma perché te li devo dare? Però la tigna, come si dice, la caparbietà di Pierazzini che andava a fare illegalmente dei buchi per le strade di notte è stato da insegnamento per un sacco di altra gente, qui è inutile che io ho dei problemi con la burocrazia innati nel mio DNA, o forse la burocrazia ce l'ha con me, ma però eravamo tutti così. Il professor Sergio Natali dell'Università di Bari dice che non si può alzare il pavimento di Bari Vecchia, con un palloncino tirava i capi delle fibre nelle fogne, andava dall'alto turbino, lo tirava fuori e continuava per collegare edifici, non so Giorgio Maggi, ci sono delle sedi dell'Università di Bari che stanno a Bari Vecchia e lì non si può neanche muovere un sassolino. Voglio dire, di questi ce ne sono stati tanti e per lo più hanno avuto grande successo, ma perché sto citando questo? Per quale motivo GAR dovrebbe non utilizzare quello che già avviene a livello di reti metropolitane o regionali? Se esistesse una rete regionale come per esempio esiste in Emilia Romagna, come potrebbe esistere altrove, non cito una regione del mezzogiorno dove c'è solo sulla carta e basta? Per cui non ci si può fare affidamento alla cosa peggiore quando dice no, la rete ce l'ho, tu ad opera la mia, ma se tu non ce l'hai io non la posso adoperare, siamo in un impasse. Quello che fa GAR comunque ad opera, soltanto quello che funziona. Tutti quanti questi pallini che stanno scritti qui sono o di città o di province o di regioni che GAR utilizza perché magari l'amministrazione comunale, provinciale o regionale ha messo in piedi un'iniziativa e ha fatto delle cose che funzionano. Quindi quando si spendono i soldi pubblici per uno scopo non si vede per quale motivo poi anche GAR non ne possa beneficiare. Sia ben chiaro, se una regione o un comune fa una rete metropolitana o regionale per scopi amministrativi, GAR non è che utilizza i circuiti dell'amministrazione pubblica, utilizza delle fibre che sono parte, che stanno nei cavi e delle cose lì, come due cose totalmente separate, ma la condivisione della spesa e il fatto che uno ha dovuto scavare, ha dovuto mettere dei tubi, ha dovuto infilarci delle fibre dentro, questo qui per quale motivo non ne può beneficiare enti pubblici come gli enti di ricerca. La cooperazione funziona, adesso stiamo facendo anche la cooperazione a livello del wireless, nel senso che quella cosa che ho detto prima è Durom, a un certo punto anche uno straniero che sta in Durom, è certificato Durom e viene in una provincia che ha wifi per il cittadino, dati le convenzioni tra GAR e il comune o la provincia, anche un membro che afferisce all'università un laboratorio straniero, quando viene in Italia può adoperare le sue credenziali per… quindi uno cerca di spendere meno soldi così, perché questo qui è il backbone, questo backbone è in fibra, questo è tutto in fibra, quello che ho detto prima quando ho detto 8 terabit e qui sopra tutto è predisposto per queste cose, naturalmente si montano i pezzi di ferro che servono, non è che si spendono a vuoto, però quello che volevo fare vedere è che data la posizione geografica dell'Italia, collegamenti con l'Albania che sono già… c'è una persona dell'Università Albanese qui con noi che parla italiano, capisce tutto quello che stiamo dicendo, è una delle cose, tra l'altro è un made connect con i paesi del Mediterraneo, la Grecia, Malta, Tunisia sono collegati, un infrastruttore in fibra può trasportare queste componenti delle reti di ricerca di questi paesi in Europa, naturalmente poi ci sono iniziative di quelle avveneristiche come quelle lì del CNRS francese che vuole misurare se è vero che i neutrino hanno più veloce che la luce tra il CERN in Svizzera e il Gran Sasso, la struttura in fibra facilita questo lavoro, ma insomma voglio dire ci sono altre misure di metrologia che… e vabbè, questo sarebbe… quello è quello che uno se fosse approvato, il progetto CERN in Sud che è stato sottoposto a questo POR è quello che sto dicendo io che potrebbe diventare le regioni del Mezzogiorno molto più avanzate di tutto il resto dell'Europa, ma speriamo che venga fatto e naturalmente questo pezzo qui è integrato perfettamente col progetto CARIX. Tanto per dare esempio, ma non la farei troppo lunga, tanto il Presidente dell'INFN mi pare che sia andato, non prego niente, voglio dire questo qui è il modo in cui si possono costruire delle reti virtuali sopra l'infrastruttura fisica, ma questo vale per l'INFN o può valere per esempio con gli istituti zooprofilattici sperimentali, questo mi pare che è un progetto dove c'è Caspur con gli istituti zooprofilatti sperimentali del Mezzogiorno, stanno 3-4, che possono costruire sull'infrastruttura CAR tutte quante queste… una rete virtuale privata, essenzialmente una delle valenze di CARIX è che su un'infrastruttura in fibra uno può costruire delle reti come se fosse da solo e questo vale sia per reti disciplinari che per reti di enti, ma anche reti di altre applicazioni, se la pubblica amministrazione fosse illuminata in qualche modo, adesso non posso dire tutto quanto quello che penso al riguardo, perciò non lo dirò, però voglio dire davanti a un'infrastruttura di questo tipo facilmente quei 4 bit che passano per la pubblica amministrazione potrebbe essere ospitati su questa infrastruttura utilizzando una porzione minimale e totalmente separata dal resto dell'attività che viene svolta sulla rete della ricerca. Va beh, io vorrei citare questi nuovi servizi, questo CAR Cloud per intenderci, che è un nome che uno può dare al modo in cui viene vista poi la rete dal punto di vista dei servizi che ci girano sopra, dimentichiamo i fili che diventano invisibili e vediamo quello che è per esempio l'ultima cosa che c'è scritto, qua la possibilità di accedere a un documento senza aversi procurare l'operazione di fili è proprio l'obiettivo, uno non ne sape più niente, poi domani ti perde la memoria, ma insomma voglio dire, va beh, questo l'ho già detto, chiaramente il CAR è uno strumento per la ricerca globale, ma l'ho già detto di queste cose e questo qui è la dimostrazione, voglio dire, la rete CAR attraverso la rete GEN è collegata a tutto il mondo, le reti della ricerca formano un sistema a livello mondiale, tutte le reti della ricerca sono tutte quante interconnesse tra di loro, GAR partecipa a tutti quanti questi progetti, soprattutto con l'America Latina, con l'Africa, con la Cina e la Russia e col Mediterraneo, queste qui sono le cose in cui è più, insomma l'idea di, l'idea poi finisco perché se no la faccio veramente troppo lunga, mamma mia chiedo scusa, è la, è la, è la, è, diciamo è impossibile fare quelle cose che uno tipo le, non si chiama lì in California che fanno la Silicon Valley, concentrano tutti i talenti, i cervelli, tutti in un posto, con un'infrastruttura di questo tipo il talento può stare dovunque e esce fuori, se invece non c'è la connettità questo non esce fuori, quindi le infrastrutture sono fondamentali per mettere a beneficio del mondo intero chi sa fare le cose e come le sa fare. Diciamo noi che è stato il primo presidente della comunità europea di carbone e acciaio nel 1952, a certo punto quando è diventato un po' più vecchio ha detto se fossi, se io dovessi rifare di nuovo l'Europa, uno dei padri dell'Europa, non comincerei col carbone e con l'acciaio ma comincerei con la cultura, più che giusto, io mi sono permesso di dire che se fosse io oggi direi che comincerei con le infrastrutture, la lascio qua perché altrimenti non… qui ci sono la parte di formazione e informazione, lascio con questa trasparenza e voglio ringraziare tutti quanti quelli che io ho conosciuto sulle reti dal 1973 ad oggi, grazie mille.